Centinaia di persone hanno affollato Campo San Piero in provincia di Padova con i colori della pace e un forte no alla guerra. L'amministrazione comunale ha dato il via ad un flash mob al quale hanno aderito in numero molto elevato, una risposta meravigliosa per chiedere la pace in Ucraina. Bandiere colorate, slogan, musica, palloncini colorati lanciati verso il cielo in segno di speranza. Hanno partecipato anche tanti bambini, quei piccoli che oggi vedono migliaia di bambini come loro che scappano dalle loro case, che si trovano con una famiglia spaccata e un dolore infinito. Alla manifestazione erano presenti associazioni, parrocchie, la comunità ortodossa e anche alcuni cittadini ucraini. Durante il pomeriggio sono stati raccolti farmaci in un punto allestito dalla Croce Rossa che in questi giorni sta portando tantissimo materiale sul posto. I cittadini hanno risposto portando medicine e materiali per le medicazioni.